In questo contesto, in questa scenografia della Chiesa, tra le piccole e tipiche chiese dei frati minori cappuccini, qui di San Severo, questa chiesa titolata Santa Maria degli Angeli, ecco, continuiamo il nostro cammino, il nostro anche certe volte correre dietro questo tema della speranza. Ahimè, delle volte noi pensiamo che corriamo dietro alla speranza e che la forza ce la diamo noi, invece no, la speranza è avanti ed è anche dietro a noi, quindi è lei che ci spinge, perché la speranza che è Cristo per noi credenti è dentro di noi. La speranza ci abita, è questa speranza che noi stiamo cercando di scandagliare nel contesto del tema generale di questo nostro percorso, che è la felicità, questa speranza ci spinge sempre verso la felicità, verso l'amore, che appunto è per noi credenti cristiani. Un'altra qualità, tra virgolette, per educarci alla speranza, oltre alla coscienza di sentirsi uomini e donne in cui Dio ha seminato il seme dell'assoluto e quindi di non sentirci inutili, oltre alla lotta contro la delusione, dobbiamo anche cercare di acquisire, meglio, di lasciare entrare dentro di noi la pace, la pacificazione interiore che nasce appunto dalla pace che ci viene come dono dello spirito e come frutto della nostra relazione con Cristo. Una volta una persona mi diceva della sua vita, una vita, ahimè, alquando tormentata, inquieta, una persona che non riusciva a trovare appunto pace e a un certo punto ho chiesto, cercando di capire meglio, perché a me era parso una persona che andava in chiesa, che pregava, invece dico ma da quanto tempo non preghi? Eh, una vita, piuttosto imprego mi ha detto. Dico ma da quanto tempo non ti confessi? chiedo scusa, dice saranno 50 anni, sono 50 anni che non ti confessi e dimmi come pretendi di avere la pace dentro di te se tu non ti, dico, abbandoni a Dio, se tu non hai la speranza che Dio ti può dare la pace, che Dio ti dà la vita, che Dio ti dà il perdono. Come pretendi di poter perdonare tua sorella e tuo fratello per l'eredità ingiusta, così come mi diceva, se tu non riesci a godere del perdono di Dio? Ecco, la pace interiore non è qualcosa che mi viene automaticamente, ma è, come la speranza, un dono dello Spirito che io devo chiedere continuamente al Signore, che devo anche alimentare attraverso la preghiera, l'ascolto della parola, la partecipazione alla messa domenicale, la confessione frequente e quindi è la carità. Ma, se non faccio questo, che pace posso avere dentro di me? Che pace puoi avere dentro di te? Io sono sempre qui, vi aspetto domani, Padri Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao! Ciao!